E' la terza parte del brutto anatroccolo e ha parole alternate. Buongiorno come va le domandò una vecchia anatra un po' curiosa che era venuta in quel momento a farle visita. Il guscio di questo grosso uovo non vuole aprirsi, guarda invece gli altri piccoli non trovi che siano meravigliosi.